Sono Rossella, ho 20 anni e sono una studentessa universitaria. Oggi ho deciso di fare questo video per testimoniare che la Chiesa Cattolica, attraverso l'operato dei sacerdoti, mi ha aiutato molto. In particolare mi hanno aiutato a non essere più triste e ripiegata su me stessa, ma mi hanno insegnato ad accorgermi degli altri, di chi mi sta attorno, di chi ne ha bisogno. La Chiesa Cattolica ha fatto cose stupende per me, per la mia famiglia, per il mio quartiere. Per questo io oggi voglio dire basta, non voglio più guardare i vostri programmi televisivi dove vengono soltanto ridicolizzati i sacerdoti. Io voglio dire basta perché io amo la Chiesa Cattolica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.